È sicuramente un'estate positiva questa, di ripartenza, le persone sono finalmente tornate in vacanza, abbiamo avuto degli ottimi riscontri e sicuramente c'è un animo molto più leggero rispetto all'anno scorso e all'anno prima. Le presenze ci sono, prevalentemente italiani ovviamente o stranieri dei paesi vicini, però tutto sommato siamo soddisfatti. Un turismo anche molto giovane per le strade di Pesaro, soprattutto nel centro della città, sono visti molti giovani con le valigie in mano che arrivavano in città per godersi l'estate pesarese. È una soddisfazione ulteriore questa per gli albergatori? Sì, è un turismo anche nuovo, quest'anno Pesaro è anche città dei giovani 2022, poi è passato un po' in sordina questa grande iniziativa, è stata anche al centro di un convegno che è stato fatto nelle settimane passate. Quindi i giovani tornano a visitare Pesaro e siamo molto contenti di questo. Il turismo invece per i prossimi mesi, quindi da settembre verso poi l'autunno e l'inverno, come è proiettata la vostra idea di turismo? Sarà un settembre che ovviamente fino alla fiera di San Nicola, quindi attorno al 10-11 di settembre rimarrà costante, un po' in diminuzione ma prevalentemente costante. Poi inizieranno una serie di iniziative che manterranno piano piano il turista qui a Pesaro ma scemando verso l'autunno ovviamente. Il grosso interrogativo per il prossimo autunno-inverno sarà per noi le bollette, quindi l'aumento dei costi e su questo dovremo anche riflettere, alcune strutture stanno riflettendo, come gestire l'inverno perché non sarà facile. Con tutto quello che sta succedendo attorno a noi non sarà facile poter mantenere le strutture aperte e gestirle nel migliore dei modi. Però siamo ottimisti, speriamo che ci sia anche un Natale, quindi un dicembre, un Natale di ripresa e incrociamo le dita. E poi soprattutto c'è il fattore casco gigante di Valentino Rossi che può regalare ancora più gente, ancora più turisti qui a Pesaro. Sì, abbiamo visto che per il momento sta funzionando, le persone lo hanno apprezzato, lo vengono a visitare, vengono a farsi una foto, un selfie, dalla mattina presto fino alla sera tardi. Quindi è sicuramente qualcosa che attrae e porta almeno per ora di passaggio alla gente a Pesaro. Poi vedremo se questo, oltre a portarli di passaggio, sia anche un elemento per portarli qualche giorno in più a Pesaro.